a rampicare con i figli in grignetta preparo per andare da prima e poi metti un moschettone con lo lungo Matteo ha detto che è più sicuro il suo friend sulla fessura svasata che il fittone resinato buona matti che belli friend che hai messo inizia a fare un palazzo adesso dobbiamo fare la placca qua e arriviamo sulla segantina oh che buona magari ci sono delle catene da scendere ci saranno delle catene quando l'ho vista mi sono detto che bello inizia Matteo che sosta che è combinato ma devi mettere mandare un curriculum sono alla capa e assumono nella direzione del sviluppo prodotto l'unico su cui non sono sicuro è questo non so se tenga il friend 4 lì il groviglio di fettuce ma però ho messo siccome è chiuso con un moschettone senza la ghiera abbiamo messo 4 altri tutti in sensi diversi in modo che se uno ti aprisse però ci sono sempre gli altri poi ne ho messi anche uno staccato tra l'altro c'è capito? bravo bravo ma guarda qui per staccare un pochino questo adesso non mi piace sembra rompire bravo 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 bravo